Grazie, 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 grazie. Voci dal futuro, voci per il futuro. È peccato che il mio atteggiamento verso la musica e verso la voce sia sempre stato di tipo retrofuturistico, perché sono nato col vinile, sono nato con un riproduttore audio vecchio, anni 70, e questo mi ha consentito già da allora di intraprendere questo viaggio in tre dimensioni, dove l'ascolto del corpo e della mente erano un tutt'uno, molto prima che le smartphone, ancora prima il Walkman, rovinassero tutta questa cosa. Nei miei studi sono arrivato a concludere che ci sono quattro elementi fondamentali del suono che vanno presi in considerazione quando sia nell'ascolto attivo, ovvero quando suono, quando canto, o nell'ascolto passivo, quando ascolto, semplicemente uno parlare o un disco. Questi quattro elementi sono il suono, inteso come timbro, come armoniche, la dinamica, come il suono varia nel tempo, sia in un tempo limitato, micro dinamica, che in un tempo più esteso, macro dinamica. Il tempo musicale, cioè come noi, su un'asse ideale del tempo, definito in BPM o definito da un direttore d'orchestra, mettiamo note e pause. E l'intonazione, che viene denominata altezza, che può essere settata a 4,32, con la 4,32, 4,40, quindi ci sono tanti variabili in un sistema dodecafonico di 12 suoni identici, che però perfetti non lo sono mai. E quindi mi sono ritrovato a dover risolvere un sacco di sfighe, perché da quando ho intrapreso questo viaggio mi sono ritrovato a far fatica a sentire le cose come, secondo me, nell'ascolto passivo erano. E poi come facciamo a definire un suono in quattro modi mentre lo ascoltiamo? Cioè, come si fa? Deve già essere messo il suono, giusto? Poi come facciamo a correggere errori se non ci sono? Quindi la nostra mente, anziché cercare di fare una cosa giusta, ne fa quattro leggermente sbagliate. E, cavoli, anziché una giusta farne quattro sbagliate non è una bella media, giusto? E quindi... Come si fa? Per arrivare laddove si sente, occorre pensare al suono, sia che con l'ausilio di uno strumento o con la voce, prima che questo venga messo, e pensarlo già finito, attraverso l'ausilio, il filtraggio dell'istinto, quello che mia madre e mia nonna mi hanno insegnato, a riconoscere, per riconoscere la mia verità, per riconoscere tutto quello che è vero per me, non con delle dottrine, ma bensì facendo leva su un senso di responsabilità nei confronti di me stesso. Cioè, riuscire a cantare, suonare bene, suonare bene una parte musicale in modo naturale, che rispetti i canoni musicali, ok? Ma che rispetti anche il mio corpo, la mia mente, non è una cosa facile, richiede tante ore di studio, ma soprattutto consapevolezza. Ed è normale che un musicista a un certo punto faccia i conti con la propria eccezione. E anche io ho fatto quella fine lì. Ora voglio farvi un quesito. Se aveste un figlio di otto anni, che vuole suonare il pianoforte, e foste ricchi sfondati, e vi chiede, papà, voglio, o mamma, voglio un pianoforte, gli compresti un piano da 2K o da 200K? Provate a pensarci. Alzate la mano. 2K. Nessuno. Qua stanno tutti bene al mondo. 200K. Gli altri non si suona? Chi se ne frega? Ok, benissimo. Ok. Benissimo, questo non funziona, molto bene. Ok. Arrivo, eh. Quindi questo interrogativo ve lo pongo perché alla fine nessuno chiede al bambino cosa vuole. E da lì è nata la mia esigenza di scoprire che cos'è la maieutica. Durante il mio workshop una dottoressa mi chiese non sei molto bravo con la maieutica, complimenti, non sape neanche cosa fosse. E allora mi sono andato un po' a documentare e ho capito che era una cosa naturale per me cercare di estrapolare sensazioni o pensieri da chi avevo vicino, che fosse un allievo, che fosse un collega. Questo per arrivare a un risultato che io avevo già in mente. La premessa è che io non sono qui per intrattenervi, perché altrimenti vi avrei avveritato un mio concerto, giusto? Non sono qua neanche per stupirvi, ma sono qua per condividere un'esperienza che mi ha permesso di conoscere molto me stesso. Infatti il dovere di qualsiasi artista o musicista che sia è di mettere al centro la performance, al netto di me stesso, le paure, al netto di tutti quelli che possono essere gli interessi coinvolti, ma soprattutto al netto dei limiti che spesso sono imposti da chi vuole che la sticella sia sempre tenuta più basso, perché la gente non capisce. No, la gente capisce. E la gente soprattutto sente. Seppene fossi il peggior studente della storia, probabilmente, ho sempre pensato che comunque le cose potessero essere fatte meglio. E questo mantra me lo sono portato avanti, anche perché per trovare pace tra cuore e testa, dopo tanti sensi di colpa, sensi di inadeguatezza, sensi di... anche di buttarsi un po' via, sono arrivato alla conclusione che se volevo concludere qualcosa nella vita, dovevo dedicarmi a qualcosa che mi avrebbe permesso di accrescere il mio interesse giorno dopo giorno e soprattutto a non anioniarmi. E quindi, tornando all'approccio retrofuturistico, come io forse avrei voluto fare le cose, io ho notato che la praticità e la convenienza sono i nemici dello studio delle cose. e quando comprai il mio primo sintetizzatore a 13 anni mi regalarono uno strumento vero, quello che avevano quelli veri. E io avevo 13 anni, dicevo, ma io me lo merito questo strumento? Sì. E mi sentivo come un astronauta nello Space Shuttle, dove l'unico limite ero io, quelli erano bei tempi, li potevo solo migliorare. Ora vorrei condividere al volo un po' delle mie ricerche, nate appunto da queste sfighe. La prima è quella della latenza. Scoprire che oggi, quando registri la tua voce, c'è un ritardo che se è anche di un millisecondo, comunque crea una sorta di blocco tra te, la tua gola, la tua testa, la tua gabbia toracica. E questo blocco può essere risolto soltanto, se volete ve lo dico dopo, se vi interessa. Comunque, è un blocco che comunque compromette molto la sensazione che tu provi mentre canti. È un po' come quando scrivete il cellulare e le lettere non escono, vi incavolate, giusto? È la stessa cosa. Quindi la fluidità, la libertà e la reattività che il suono ha, sono gli elementi che contraddistinguono un suono libero e spontaneo da un suono pensato e noioso. Una volta che ho fatto un test su 300 persone e tutte hanno preferito il monitoraggio diretto, vuol dire che se anche non sei un esperto in audio, se anche non riconosci gli elementi, ma se gli elementi ci sono, li senti. Se li senti, la scelta è sempre quella che ti porta verso l'effetto libero, quindi verso la libertà. Poi un'altra cosa che è stata parte dei miei studi è stata la compensazione. Siccome il cervello compensa anche quando non glielo chiedi, a un certo punto ho deciso, visto che il risultato che ottenevo era sempre un po' scarno, di prendermi in giro. Cioè ho cominciato a enfatizzare nel mio ascolto le frequenze alte perché le avevo in eccesso e toglievo le frequenze basse perché ne avevo un difetto. Mi ritrovavo che quello che trovavo alla fine era esattamente quello che avevo in testa. Nel senso che non riuscivo a realizzare il suono che volevo perché ero compromesso dal mio ascolto estemporaneo. Ho fatto questa prova con 2500 allievi in 25 anni, ovviamente, e questa cosa funziona sempre. Questa sorta di compensazione estemporanea. Questo mi ha permesso finalmente di ricavare il mio suono, quello che veramente voglio, non quello che penso di avere perché le condizioni non mi permettono di tirarlo fuori. Uno degli ultimi studi che ho fatto è quello della destra e della sinistra. Un giorno mi cade una birra mentre ascolto una roba e sento che a destra e a sinistra sento due robe diverse. Allora ho detto cosa succede. Poi mi sono messo a far mastering, che è l'ultima operazione che si fa nelle produzioni audio, e quella che, diciamo, è il tocco finale, ed è partito il mio vaggio in 3D. Ho capito che l'orecchio sinistro percepisce tutto quello che è all'esterno di me. L'orecchio destro invece riceve il suono. Dici, io ho due orecchie che funzionano esattamente uguali. Assolutamente no. E questa cosa l'ho provata con tante persone. Perché dopo vi spiego perché ho le bacchette, non sono un batterista. Però se provate a fare questa cosa, chiudete l'orecchio destro. È gratis, non costa niente. Vi mettete così e parlate con la mano sinistra davanti alla bocca. Sentirete che il suono lo percepite all'esterno. Se fate il contrario, il suono lo percepite all'interno. Ora, quindi, siccome il 70% del suono è costituito dall'ambiente, quindi l'ambiente è un azionario che ne ha, a questo punto, azionista, scusate, qual è l'orecchio del musicista? Quindi il sinistro o il destro? È come avere un navigatore. Il destro mi dice dove sono, il sinistro mi dice dove devo andare. Quindi quando mi hanno operato di cervicale e dovevo decidere dove farmi tagliare, ovviamente mi sono fatto tagliare qui. Perché se mi avessero tagliato qui, avrei perso 30 anni di sensibilità, di studi e di proprio eccezione. Quindi è molto importante anche capire che quando ascoltiamo qualcosa, questo qualcosa è messo così. E quindi se metto un suono crescente a sinistra, anche sì, se lo metto calante di qua, la sensazione è negativa. Perché ho le bacchette? Perché per provare questa cosa, mi sono messo a tenere il tempo agli allievi, gli dicevo chiudi l'orecchio destro. Poi mi allontanavo, adesso non posso perché c'è il bollino rosso, ma vorrei allontanarmi, ma non posso. Comunque, 15 metri fanno 90 millisecondi. 90 millisecondi in musica sono un'infinità. Però gli allievo, con l'orecchio sinistro libero, continuano ad andare a tempo. Col destro no. Quindi vuol dire che la funzione destra e sinistra è una cosa completamente diversa. Ora, perché dobbiamo semplificare l'ascolto se è una cosa complessa? Se vogliamo veramente arrivare a percepire col corpo, dobbiamo fare questo tipo di trip. E questo trip io lo devo al batterista che mi ha donato queste bacchette, ovvero il mio batterista. È sette anni che suono con questo personaggio, che è una leggenda del rock, si chiama Tommy Aldrich, e suonando con lui mi ha chiamato la vita. Io ho sentito dei recettori, ho detto, ma come cavolo suona questo? E la prima cosa che ho pensato, questo suona male, perché il mio cervello non andava d'accordo con quello che faceva lì. Ma il mio corpo sentiva tutto, che movimento, molto bello, molto buono. Ok, allora a quel punto lì, ho detto, forse c'ha ragione lui. Ho ascoltato le prove e ho capito a 40 anni che non avevo capito niente. Grazie a lui. Poi sono andato a tavola con lui, grazie Tommy, mi ha fatto capire la differenza tra le basse e le alte, le basse le percepisco qui, le alte lì. E lui continuava a mangiare, boom, cosa stai dicendo? Non aveva la minima idea di cosa gli ho detto, però me l'ha insegnata lui. E quindi devo, lui è molto, cioè li devo veramente tanto, perché finalmente mi ha fatto capire come veramente si ascolta la musica. Anche perché i toni fondamentali della vostra voce e di tutte le note che sentite sono tutti medio-bassi, quindi che si percepiscono attraverso il corpo. Ora diamo la risposta al quesito di prima. Potete alzare la mano quelli dei 2K, quelli poveri, ecco. Ok, poveri, ok. Quelli ricchi. Chi non comprerebbe il pianoforte perché non ha posto in casa? Niente, nessuno. Comunque, una volta vado a Boston, giorno off, vado a Boston, ho avuto la brutta idea di provare il piano da 200K. E dopo il mio piano non l'ho suonato per meno un anno, perché era talmente ricco di armoniche, ricco di dinamiche, insomma, mi suonava lui. A un certo punto ho detto, forse il mio piano non è un gran che, ma però io lo suonavo, io sentivo cosa faceva questo pianoforte. Quindi la risposta è che bisogna comprarli tutti e due. Perché uno ti sviluppa la sensibilità, ti dà la possibilità di sentire un milione di colori, l'altro ne ha 16, poveretto, però devi fare il meglio che puoi con questi 16 e capire qual è il limite di uno strumento per capire qual è il tuo limite per poi arrivare alla fine e tirare le somme, perché alla fine comunque bisogna sempre fare quello che devi fare in quel momento lì. Ora, io non ho bisogno di sentire che c'è un elemento di disturbo quando mangio qualcosa, quando ascolto qualcosa. Non devo per forza riconoscere, non sono Sherlock Holmes, ok? Però se sento che qualcosa non va, probabilmente c'è qualcosa che non va. Quello è il compito del cervello, con lo studio e con la passione, eccetera, di andare a risolvere tutto quello che si interpone tra me e un suono libero. Quindi adesso io vi saluto. Aspetta! Non ho finito. La cosa bella che però questo tipo di ascolto, al quale io tengo anche perché sto investendo molto nel mio album, ho bisogno che questo venga ascoltato come si faceva una volta, perché se oggi ti metti a ascoltare un giradischi e ti metti così, dopo arriva veramente la neuro. E non va mica bene. Io spendevo i miei pomeriggi così e in questa esperienza mi manca molto ed è quella cosa che vorrei tramandare anche perché uno fa star bene e soprattutto porta veramente a benessere, porta ad equilibrio. La musica non è solo musica e io non sto bene se la musica non suona bene alle mie orecchie. Grazie. Applausi Applausi Grazie. Applausi Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie.